Musica Cari amici di Vacanzelandia, oggi vi parliamo del vento. Sì, proprio del vento, il vento che ci può rovinare una bella vacanza e farci spendere un sacco di soldi. Come? Così, basta una bella raffrica di vento e il tendalino si ribalta distruggendosi. Non solo, con un colpo di vento il tendalino si può ribaltare sul tetto, rompere la parete dove è fissato e rompere degli accessori, l'oblò o altre cose che sono posizionati, installati sul tetto. Ecco come si può rovinare una vacanza, ma tutto ciò si può evitare. Come? Facendo in modo che quando c'è un colpo di vento il tendalino non si muova dalla posizione. E per fare questo c'è un accessorio che ci può aiutare. un accessorio che vigila sul vostro tendalino quando voi sarete in spiaggia, al mare, in montagna a fare un'escursione, senza preoccuparvi se il tendalino aperto viene un colpo di vento. Per stare tranquilli col tendalino aperto basta avere il kit di Peggy Peg Fix & Go. In questa pratica e comoda borsa c'è la soluzione. 2 piastre di bloccaggio per tutti i tipi di piedi dei tendalini. 6 picchetti a vite per terreni duri o sassosi. 6 picchetti a vite per terreni morbidi o ribosi. Utensile per avvitare i picchetti. Ganci di fissaggio per corde e 2 picchetti per terreni sabbiosi molto morbidi. Montare la piastra è molto facile e veloce. Si posiziona la piastra. Si scegliono i picchetti giusti in base al tipo di terreno. Si avvitano i picchetti bloccando la piastra fino in fondo. Si tocca il piede del tendalino nella piastra. Può essere utilizzato sul prato, sulla terra. Se devo spostare il camper per andare a fare il camper service o un'escursione, io non devo smontare la piastra. Basta che io la apra, estraggo il piede, chiudo il tendalino e vado a fare quello che devo fare. Dopo, quando rientro, riapro il tendalino, rimetto il piede nell'alloggiamento e blocco la piastra. Questi picchetti di plastica durissima sono 5 volte più leggeri dei picchetti tradizionali. 10 volte più resistenti. Si avvitano in qualsiasi tipo di terreno e si smontano sempre. Maggiori dettagli su questo prodotto lo potete leggere su www.vacanzialandia.com oppure visitate il sito peggypegitalia.com dove potete anche acquistarlo online e farvelo arrivare direttamente a casa. Ora anche voi sapete come potete stare tranquilli con il vento e con il tendalino aperto con il kit fix and go di Peggypeg. Vi invitiamo a seguirci su www.vacanzialandia.com dove troverete tanti altri consigli utili per vivere delle bellissime vacanze all'aria aperta in camper, in caravan e in tenda. Buone vacanze a tutti! Grazie a tutti!